Torno a distanza forse di qualche anno qui a via San Domenico, Contrada San Domenico Lama e c'è da dire che sembra davvero che non ci sia fine al peggio agli errori e agli orrori che accadono. Ci troviamo, vedete il manto stradale, un manto stradale che è stato sfregiato per l'ennesima volta da vari interventi di utenze private, prima è intervenuta l'Enel, poi la fibra. Insomma, il terreno sfregiato più volte ovviamente non riasfaltato o riasfaltato in modo davvero pedestre, un manto stradale che diventa un pericolo di guerra, oltre a considerare che la carreggiata sia anche ristretta. Ne parliamo con Luigi Nuzzo che è il fondatore del comitato San Domenico. Qui in Contrada San Domenico non c'è pace. Dottore, questo problema, ha detto benissimo poco fa, è annoso, ormai San Domenico avevamo cercato di asfaltarla qualche anno fa, adesso ci troviamo di nuovo nelle condizioni, come ha detto lei, ovviamente con i lavori fatti da private Enel in questo caso, dove ci troviamo con dei canali sulla carreggiata, c'è una moto, una macchina, se prende putacaso lo sbalzo sopra, sotto il primo manto, sbanda e cade, quindi dobbiamo aspettare sempre comunque l'ennesimo manto di disgrazia. Ora, non voglio essere pessimista, noi facciamo tanta attenzione, però dico, se andiamo più avanti c'è una rotatoria, addirittura sono scomparsa, è scomparsa la segnaletta, quel poco segnaletta che avevamo di pericolo e deviazione dei camion, poi sui camion c'è da dire quanto ne abbiamo già detto, che qua ci fanno le passeggiate, è un H24 di continuazione con i camion dove non possono passare. transitare. I vigili urbani dove stanno? I vigili urbani dove stanno? Scusatemi eh. Davanti al ponte girevole? Se è poco, scusatemi, ma ogni tanto, quando fu anni Orsono che c'era la provinciale, lo chiedemmo, vennero a fare qualche intervento, ma c'è stato mai un momento sanzionario sulla nostra zona? Per dire al camionista di Tuneo, sono sempre i soliti, che qua non potete passare. Si ricorda quando abbiamo detto, dottore, più avanti dove sprofondò, si ricorda? Si, si ricorda perfetto. Tanto tonocchia piove, andò giù. Benissimo, è andato da capo giù, nessuno prende provvedimenti. Che cosa c'è lì sotto, una galleria? Poi ci stanno pure restringimenti dove nessuno provvede. Quindi già si piangeva, ripeto, con un occhio. Adesso che ci hanno ancora una volta stretta la gareggiata, abbiamo perso due metri di gareggiata. E ci troviamo i camion? I bus non possono passare, come dovrebbero, perché poveretti, l'autista dell'AMAT fa ogni volta le capriole, si deve fermare all'angolo, quando sta passando un altro carro oppure camion si deve fermare per poter transitare insieme. che non possono, perché addirittura è proibito, far entrare con la larghezza maggiore a due metri. Qui ci passano un po' con tutti i quadri, ma ripeto, la situazione disastrosa è la viabilità. Siamo arrivati in una situazione proprio drastica, drammatica. Che cosa dobbiamo aspettare? Speriamo che quando finiscono i lavori della fibra, vengano ad asfaltare. Altrimenti la situazione è diventata proprio invivibile, nel vero senso della parola. Quindi come cittadini di San Domenico vi preghiamo, vi preghiamo. Noi non vogliamo fare ogni volta alterazioni, bloccare, fare. No, siamo persone educate, ci distinguiamo per questo. Però attenzione, però attenzione, un occhio, un occhio, non dico particolare, ma non di normale amministrazione, venite ad appoggiare sulla zona. Che dire? Quattro anni e mezzo di disamministrazione, Melucci. Lo dicono i fatti. Io ero assente da un annetto, due, tutte le problematiche del Covid e roba varia. Vedete un po' come si peggiora. Povera Taranto. Credo che proprio sia giunto il momento di dare una svolta. E lo ripeterò fino alla nausea. Io da vent'anni faccio il giornalista e da vent'anni ripeto sempre le stesse cose. È triste tornare qui di nuovo in Contrada San Domenico e ripetere sempre le stesse cose. Anzi, aggiungerne di peggiori. Capite perché ora ho deciso di candidarmi sindaco? Perché sono stanco. E penso che anche i cittadini della Contrada San Domenico, e non solo, lo siano.